Siamo tutti abusivi e non ce ne andiamo più, tutti abusivi! Allora, momento di suspense, momento di grande suspense perché a giocare al nostro Oculus, la prova di coraggio, la realtà virtuale in quante D? 3D! 3 o 4D? 3 o 4D! Ci sarà la nostra Flavia De Vigo! Applausi! Flavia ci sei? Ci sono! Ci sei? Premi play Flavia, allontanati! Ecco qua, è partita! Ecco! È partita la plomb di Flavia! Fantastico, guarda questi animaletti! Quanti animaletti, quanti conigli che zompano, guarda! Vino si vede pure la smart, vino! Ecco Flavia! Ma io voglio papà o cavallo e ritorno! No, 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 concentrati! Voglio papà o cavallo e ritorno! Attenta le pietre! Senti il freddo! Vai, attenzione! Oh! Mamma mia, favoloso! Le rocce, come piacciono a me! Flavia è imperturbabile! Sei pronta, Flavia? Attenzione, attenzione! Attenzione, che paura! Giacchino! Mi stava dando una testata! Ecco Flavia! C'è uno di là che ha fatto a maghi! Se vuoi il sforzo, veramente che ti vanno le rocce in farsa! Dobbiamo arrivare al monte di Dio! Ecco! Oh! Attenzione, spostami! Allora, ma non è che questi palumbi mi fanno qualche servizio in testa! Allora, sì! Oh! 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 Vai, vai! Vanti, prego! Vieni, no! Vieni! Vieni, prego! Oh! Vieni, vieni! Chi dura! Faccia, faccia, faccia! No, non ci... Vieni, vieni! Vieni, vieni! Va bene, va bene, va bene! Vieni! Vieni! No, 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 no! Beh, alzati piano piano! C'ho troppo le vertigini! No, ti preoccupa! Vai, spetta! Va bene, togliamo proprio perché lo spettatore ha visto le adenoidi e quindi andiamo... Un applauso a Flavia, che meraviglia! Grazie! Un applauso a Flavia! Un applauso a Flavia! Bravi, bravi! Bravi tutto! Un momento difficile, un momento difficile, ma siamo per ospitare un uomo che non è un uomo, è qualcosa di enorme più di un uomo bravo, due uomini sì, stai davanti alle telecamere un uomo figlio di un personaggio internazionale la punta non è proprio la punta è il puntone di diamante chi è che sta suonando? io scusa, mi stavi parlando ho detto una cosa grande ma è il minotauro non è il minotauro tu conosci il minotauro? no, ho fatto due quadri non dà che corna due quadri che corna ok Ciro, va tutto bene? no, tutto bene tutto a posto, lo vogliamo aiutare? ok, signore e signori direttamente da Modena in provincia di Poggio Marino abbiamo l'onore vai Gigi che vedi il figlio illegittimo di Luciano Pavarotti il Pavarottino in piedi tutti le graffe che ha portato qua finalmente la graffa fredda bravi, bravi fiume, capricchino fanno morgo e marruppine marruppine la 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 lalala la lalala la lalala la lalala la lalala la lalala basta allora il maestro paparotti il piccolo figlio di paparotti ha fatto mamma ricordiamo che la madre ha avuto un rapporto con paparotti a parlare tanto perché scusami allora portate il passare la pizza fritta che profumo è incredibile allora prima di parlare con il figlio illegittimo di paparotti è stato un pensiero carino un pensiero carino poi parleremo con paparotti perché questo è il momento il quarto blocco di solito è il momento dedicato più alla musica no alla musica quindi abbiamo ospite internazionali abbiamo la musica bella e abbiamo la musica bellissima voglio dire ma a questo punto abbiamo anche un momento che noi dedicheremo al paparottino ricordiamo il nome tu come ti chiami tutti buonanima buonanima perché come a papà a buonanime paparotti la mamma l'ha chiamata buonanima mamma che si chiamava rosetta rosetta che viva no si fa la salumiera fa la salumiera ricordiamo quel momento in cui il paparotti venne a fare una serata appoggio marino altro al alla sagra della salsiccia col friariello col friariello bellissimo fu chiamato da azzurro a spettacoli azzurro a spettacoli ciao gianni auguri per tuo figlio venne a fare se è laureato se è laureato se è laureato fece due canzoni 4 mila euro bellissima uscito per secondo di pesce e incontrò lo sguardo della madre mamma rosetta che aveva un occhio languito sapevo fatto sui come sporcare tutto da quell'unione dietro un bancone è nato lui che c'ha proprio il fisico del bancone ma dopo parleremo ciro scusami ho suonato per rispondere no infatti ho detto che la mamma c'ha un occhio ma non è che c'ha un occhio ha fatto il paziente bene grazie ciro per il tuo intervento sempre preciso sempre se puoi andare un'altra trasmissione sono contento a questo punto c'è un momento alto di musica maestro pavarottino c'è il momento jazz perché ho chiesto alla mister ai blusso signori momento jazz ok questo momento jazz per elevare e levarci a livello del pavarottino quindi questo momento si chiama uvratolo jazz ed è interpretato dalla nostra lab dan con bis rai un'altra trasmissione And I can make the world We will belong to me Oh baby Yes Bravi Ma senti sto No ferma Che sei Dai vogliamo una strofa Innamorarsi Devo dire come è brutto che succede Ma che sei innamorarsi Vabbè questa diciamo è la versione originale Maestri Aspetta aspetta perché a questo punto la canta anche Sara Sara vai a mettere vicino C'è uno grande tiktok Vai Sara No mettiti a fianco Tra di loro Mettiti dietro Enrico Dietro? Vado con via Innamorarsi Di loro come è brutto che succede Innamorarsi Innamorarsi La scuola di lei è purò da per a iguerra Amagats a Bologà Sono vignolata senza nombres per un mino E' un bologà sentito da un'altra pagina Ma gente no era qui sa pagina 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 Ful الي in love Bravo, sono bravi Pagina Pagina E' un il Jazz Un momento il Jazz Se voglio il Jazz Aravvi le pippo E poi ci dobbiamo e passare la mamma signori un attimo andiamo a vedere il mondo animale a proposito di animali come parlano gli animali a Napoli fanno un stacco signori e signori citazioni napoletane di Zambon Vai, vai. Siamo tutti abusivi Puntata effervescente Puntatone Abbiamo avuto telefonate sia per Antonella Perché si candidano come mariti di Antonella Quindi per Antonella Sia per gente che ha la macchina di Flavia come cavallo di ritorno Quindi tutta una serie di persone che ci stanno chiamando da casa Abbiamo fatto la tv di servizio Abbiamo fatto, bravo Non solo servizio ma anche il doppio servizio Abbiamo fatto il doppio servizio Chi è? Devi Mi sembra che la macchina l'hanno trovata Signore veramente E ma dire non fa questa coppia solo perché è passata notizia Ma però con l'anno di ritorno lo faccio senza problemi Perfetto signori questa è la televisione la 7 Quella che io volevo fare Basta togliete l'audio e le corde vocali Appuccica ogni corda Ricordiamo sono due tube la 22 Allora a questo punto però voglio il silenzio Mi state distruggendo un programma Signori perché il figlio illegittimo di Pavarotti Ci canterà finalmente A parte che me l'hai presentato tu a Chiesa Ma quando c'è questo mo che canta una canzone? Pensate lui fa due canzoni Un saluto a un male e lo sposo E vieni qua un attimino Quando ti prendi? Facci sapere Ecco qua maestro Potevamo scegliere tra le tante arie che lui riesce a fare Lui riesce a fare tante arie tantissime Non mettetelo la prova Attenzione dietro Sì Allora questa se ne fa mezza Già possiamo in qualche modo andare via Ma la canzone che lo rende più felice Ecco che lo avvicina di più al mondo del papà Tra Nessun Dorma Il repertorio di Puccini, Tosca Qual è la canzone che più ti piace cantare Che ci canterai stasera? Le tagliatelle di nonna Pina Le tagliatelle di nonna Pina Quella lo sapeva, quella l'ha scritta papà Le tagliatelle di nonna Pina Eh quella non lo sapeva Però l'ha scritta papà S'ha rubata la canzone Un collo enorme Signori abbiamo il testo di Cassagliatelle di nonna Pina Sì non abbiamo trovato il leggio e c'è lui No ragazzi no Un attimo soltanto Scusami era per lubrificare il leggio Perché alcune volte si Si intassa Sì Sei stato invitato a una festa di pacca Ma da chi ti preoccupare Allora le tagliatelle di nonna Pina A te proprio le tagliatelle non ti mancavano Però Siamo pronti Ah è tutta intera? Signori Ma perché l'avete organizzata? Quanto dura questa versione? Bene Signore e signori Il figlio di Pavarotti Buonanima Pavarotti Nel Le tagliatelle di nonna Pina Con la Lab 10 Dirige l'orchestra Il cialtrone per eccellenza Enrico Applausi Questo è già il ritornello? Sono le tagliatelle di nonna Pina Un pieno di energia Effetto vitamina Mangiate calde con ragù Con ragù Nananananananananananana Niente più L'uomo Le tagliatelle di nonna Pina Effetto vitamina Ma quale medicina Mangiate calde con ragù Con ragù E non c'è niente più E non c'è niente più Bene signori Un applauso A Pavarotti Grazie 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 Davvero Grazie Vai Anche tu da quella parte Da quella parte C'è un problema Sì C'è un problema Aspetta io devo andare in esterna Ecco Dobbiamo continuare Ti basso un attimo l'assistente in studio Vengo subito Perdonami Ma come devi andare Cino Cino buonasera A parte il fatto che sono sempre perdutamente innamorato di te Vorrei un amplesso carnale con te Quando è possibile Volevo dirti che Tony è dovuto andare Perché c'è Gino Gino Riviecio Ah sta venendo? No 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 Sta proprio qui Ai citofoni Ma si sta appiccicando con Tony praticamente Dovete abbandonare subito lo studio Perché è veramente indemoniato Ti prego Io ti amo Ma devi abbandonare lo studio Sì lo facciamo in maniera come vuoi tu Il rapporto Amplesso amplesso Sì a tutti vai Via via Vagliù Abusivi Ci vediamo la prossima volta Vagliù facci tu Pensa presta presta Via via Alla batteria L'Elisabella Pensa presta 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 Pensa presta 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 one Un suono di un'unima scelta Siamo io per sempre Ogni momento Siamo cosa più bella Che può capitare Se tu hai visto ancora Che l'ha da un'unità Per sempre a stringere Tutte vogliono stare Eternamente E temo sempre Tu sei una cosa che non passa più Perché fermato pure odierno Fatti costano bene a venta Sì solo non te sento Ma manco ogni momento che non c'è stai tu Io che non ci ho creduto mai Che cosa deve succedere Ma in due correnti all'anima Tu hai cambiato a sti regalo Un'altra cosa racconta Perché non hai mai stato amore Se tu hai camminati a tono di uno Esterbучico Si tu hai camminati a tua Che cosa più bella Che c'è un po' capita Però chi rende a vita Sta vu d'aspettare Se ci sono le due Suona, tu non me c'è da, sia via sempre, ogni momento. Sono un pazzo innamorata, ma voglio dire che tu non è cambiata vita, senza manca di lo sapere. Se la cosa è più bella che può capitare, eternamente, che deve sempre. Se la cosa è più bella che può capitare, eternamente, non è più e per sempre. Ma io ce l'amma a cui... Abusivamente, ammucce! Via, via, via! Via, via, via!